Qual è l'impegno di Enel per la sostenibilità e come mai siete oggi qui a presentare questo libro Una Scuola? Perché l'impegno di Enel è fortissimo sulla sostenibilità, come è dimostrato dall'ultimo piano strategico che abbiamo appena presentato, in cui il 95% dei nostri investimenti è legato agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Sono investimenti principalmente di reti alle rinnovabili e alle reti per sostenere le rinnovabili. Siamo nelle scuole perché ci pare che un libro per le scuole sia un messaggio adatto per far capire ai ragazzi che sono giustamente attenti all'ambiente, quale sia l'impegno di Enel sull'ambiente.